C'era un tipo che viveva su un abbaino per avere in cielo sempre vicino voleva passare una vita come un aeroplano perché a lui non importava niente di quello che diceva la gente solo una cosa per lui era importante e si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che era nascosto tra le pieghe della mente e la notte è sdraiato sul tetto guardando le stelle dalla finestra del letto con un messaggio voleva prendere il contatto diceva extraterrestre portami via voglio una stella che sia tutta mia extraterrestre vienimi a pigliare voglio un pianeta su cui ricominciare Nella notte il suo messaggio è stato ricevuto in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto c'era un po' più viola del normale o un po' più caldo il sole ma nell'aria un buon sapore e terre da esplorare e dopo la terra e il mare un pianeta intero su cui giocare e lentamente la consapevolezza vista in una noce sicurezza Universo, la mia fortezza Oh extraterrestre portami via voglio una stella che sia tutta mia extraterrestre vienimi a pigliare voglio un pianeta su cui ricominciare oltre vienimi a pigliare 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 Ma dopo un po' di tempo la sua sicurezza comincia ad avere segni di incertezza Senta il crescer dentro e l'amarezza Perché adesso che il suo corpo è stato realizzato si sente ancora vuoto Si accorge che in lui niente è cambiato Perché il suo paure non se ne sono andate, anzi casomai sono aumentate Dalla solitudine amplificate E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare E dice extraterrestre portami via, voglio tornare indietro a casa mia Extraterrestre non mi abbandonare, voglio tornare per ricominciare Oh extraterrestre portami via, voglio tornare indietro a casa mia Extraterrestre non mi abbandonare, voglio tornare per ricominciare La vita a cercare ancora di comunicare Grazie a tutti.